carnevale delle quattro strade ha fatto una roba proprio trenino solo trenino tutto volontariato si condannosi qua venuto bene quest'anno c'è stata una bella affluenza siamo felici e peccato un po la stagione però è venuta tanta gente accontentiamoci nel primo annivale di zona siamo contenti davvero la gente è venuta come vedete da filmati sempre la solita partecipazione entusiasta di tutta la contrada per tutte le tutte le iniziative io devo ringraziarli di cuore tutti i volontari perché stanno facendo un lavoro veramente impressionante tutte le volte che si fa una manifestazione è importante ora abbiamo una manifestazione il 18 marzo che è importante quella è una una serata di beneficenza e la quarta festa dell'amicizia che fu creata per dare dei soldi a un'associazione di livorno volare senza ali e quest'anno la ridaremo per la quarta volta volare senza ali che è un'associazione importante che collabora con noi e lo aspettiamo il 18 marzo grazie qui alle quattro stelle qui alle quattro stelle grazie a te